Cari amici, eccoci qua. Ciao a tutti amici di Zero Skill, oggi puntata unboxing perché è arrivato. Il nuovo regalo da parte di Canyon, regalo un paradevalle perché me lo sono comprato e partiamo con un pezzetto per volta. Oggi è la giornata in clemente, vento a 200 km orari e freddo, giusto per impedirmi l'inaugurazione. Allora, porta borracce, due ovviamente, perché per quello che c'è qua dentro servono due porta borracce, pedali Shimano PD R550, economici e rigorosamente in offerta. E questa è una bellissima camicciola, anche questa è un'offerta, che dopo andiamo a provare sia l'elctv. Bellissima, eh? Allora, adesso passiamo al pezzo forte. Cosa ci sarà qua dentro? La stichina. La stichina. Enjoy the ride. Allora, questa è la bolla di accompagnamento. Andiamo a togliere un pezzetto per volta. La sella. La sella. Dovrebbe essere selle Italia. Accessori vari. Penso siano quick start guide. E gli accessori per il montaggio. Grasso per le parti in carbonio. e sacca portattrezzi. E attrezzi vari, che adesso andiamo a controllare. bella. Bella la chiave dinamometrica. Non per uso troppo professionale, però. tanto quella ce l'ho già io. che è stato sbagliato. E' un po' di rinforzamento. E' un po' di E' un po' di rinforzamento. finalmente arriviamo al pezzo forte. Eccola qua. Endurace CF 7 e adesso vado a prendere il cavalletto per montarla. e e e o o e o o o o o Dovrei montare il porta borracce, ma lo farò dopo con calma. Direi che per oggi posso andare a fare un giretto. Ciao ciao ciao.